Amiche e amici, sono qui per ricordarvi una cosa fondamentale, essenziale per la vita e per il bene del nostro pianeta. Una cosa che le vecchie generazioni tendono a dimenticare e le nuove generazioni tendono a non sapere. Ovvero che il trancino non si scarta. Evitate la gente che scarte i trancini. Quelle sono brutte persone, sono cacca, vanno evitate come i pestilenti e i lebrosi. Il trancino si scoppia. Il trancino si esplode. Il trancino si esplode.